Così come originale, un'iniziativa che si chiama Giubileo Run di Corsa da Bergamo fino a Roma, dal Papa. Arriveranno domenica, le abbiamo presentate in partenza proprio mercoledì sera. Ora siamo a collegamento sempre con Bruno Mazzoleni di Giubileo Run. Pronto Bruno? Sì, buonasera. Buonasera, allora dove siete di bello? In questo momento siamo nella Val d'Orcia, a Bagni San Filippo, dove abbiamo fatto anche un bagno nelle acque termali suggestive. Sono antiche bagni termali dove sgorga dal monte Amiata dell'acqua sul Furea. Questa sera abbiamo fatto il bagno in queste acque qua. Perciò siete in Toscana, giusto? Siamo in Toscana, sì, perfetto. Siamo in Toscana e ci stiamo avvicinando sempre tutti i giorni a Roma. Com'è il tempo? Perché qui continuano gli acquazzoni, i nubi fragili, temporali. Non è tanto diverso. Anche oggi abbiamo preso acqua, l'abbiamo preso anche ieri sul Passo della Cisa, l'abbiamo preso anche oggi, però tutto sommato è il tempo che ci aspettavamo, niente di nuovo. Il Passo della Cisa era già un'impresa a farlo quando ero piccolo, con la macchina che sbuffava il radiatore. A piedi non è facile, eh? Sì, però diciamo si fa, si fa. Sono mille, mille metri con le attrezzature e gli allenamenti che abbiamo al giorno d'oggi. È un qualcosa assolutamente alla portata di tutti, di tanti sicuramente. Ultima cosa, state mantenendo la media. Avete detto l'altra volta che dovete tenere una media di 11 km all'ora, giusto? Sì, corretto. La state tenendo o qualcuno tira il freno? No, no, ci stiamo, ci siamo. Poi c'è sempre la possibilità di compensare, perché come ci sono persone che magari fanno fatica, soprattutto in queste zone qua, dove c'è molti, sono i scendi, ci sono molte salite anche abbastanza impegnative. È un continuo, variazione di ritmo, però abbiamo dei ragazzi che sono molto veloci e recuperano ferocemente. In questo momento qua siamo circa un tre quarti d'ora in anticipo sui tempi, per cui prevediamo domani a Roma per le otto di essere a San Pietro. Perfetto, per domenica a Roma, d'accordo? O domani? Sì, arriviamo domani sera a San Pietro. Ok, perciò comunque... Siamo partiti mercoledì alle 21, il programma era in tre giorni di arrivare a Roma, sarebbe alle 21 di sabato, vorremmo arrivare un'ora prima se tutto va bene. Complimenti, complimenti davvero, ci saluterete il Papa poi. Grazie mille allora Bruno Mazzolini. Grazie a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori e i tifosi. Grazie mille, i suoi 12 run. Noi invece...